Ringrazio la Preside e tutta la comunità scolastica per questa bellissima accoglienza. È stata l'opportunità per incontrare questo istituto comprensivo a Picanello e devo dire di tornare soddisfatto per aver visto davvero una comunità vivace e che incrocia davvero la sensibilità dei ragazzi e delle famiglie. Il messaggio che dobbiamo lanciare tutti quanti è questo, la scuola è importante e se noi vogliamo davvero educare e pensare al presente e al futuro della nostra città e della nostra città dobbiamo investire tantissimo in questo ambito e con esso fare tanta rete. Le famiglie, tutta la società civile, compresa la realtà ecclesiale e naturalmente è lo Stato che deve investire tantissimo qui.